Allora, bentornati, questa dovrebbe essere, non so se fosse la terza puntata di Divina Volontà, l'ho chieda a Don Leonardo, cominciamo a rispondere alle domande, abbiamo sentito come canto di introduzione, ecco lo splendido nuovo canto di Deborah Vezzani, mi permetto insomma di dire anche in questa trasmissione che da venerdì prossimo, quindi da dopodomani, cominceranno una serie di incontri, sempre su Instagram, quindi suggerisco di poter seguire un po' prima alle 21, quindi per me collegarmi subito sarà un po' un problema, con una serie di interlocutori autorevoli in tema di Divina Volontà, ci sarò anche io, ci sarà anche Don Pierpaolo, io ci dovrei essere il primo di maggio, adesso non si capisce bene a che ora, però poi ci saranno aggiornamenti, appunto dedicato a un'introduzione, diciamo, animata da, persone insomma che un pochino si occupano, generalmente sacerdoti, ma non solo sacerdoti, di Divina Volontà, prendendo come spunto alcune frasi di questa splendida canzone che abbiamo appena ascoltato. Detto questo, cominciamo a rispondere alle domande di oggi, Gianma Laurenti scrive, chiedere di condividere le sofferenze di Cristo nella Divina Volontà è cosa buona, anche se poi queste sofferenze si tendono direttamente o indirettamente a persone terze, per esempio familiari. Grazie Gian Maria. Allora, questa domanda è un po' troppo generica sotto vari punti di vista, quindi non è agevole rispondere, presumibilmente questa è una cosa di cui parlare in privato, perché bisogna capire di che cosa sta parlando e qual è lo stato familiare di Gianma Laurenti, insomma, quindi se una persona ha la famiglia e quindi se si teme, esponendosi, diciamo così, chiedendo di condividere le sofferenze del Signore, di esporsi al pericolo, diciamo così, che poi va a passare un guaio che ricade sulla famiglia, quindi bisogna capire se è questa la fattispecie. Più che problema di Divina Volontà, qui c'è un problema, come dire, generale, nel senso che il cielo in linea di massima gradisce le nostre offerte e accetta le nostre offerte, però, bisogna fare attenzione, non si possono fare offerte molto impegnative, come dice Gesù nel Vangelo, senza averne, perché è chiaro che ci vuole sempre la virtù della grazia di Dio, però se ricordiamo le parabole della torre e dell'esercito, dice quale uomo di voi volendo costruire una torre non si chiede, si mette seduto, ce l'ho ai mezzi per portare l'accoppimento? O se devo andare in guerra contro un esercito di 10.000 persone e c'ha 2.000 uomini, dice ce la posso fare? Quindi non si fanno, capito, perché Dio non va tentato, quindi non si fanno cose superiori delle nostre forze e né possiamo noi, come dire, essere presuntuosi. È chiaro che anche chi fa delle offerte molto impegnative le fa sempre nella fiducia del Signore, perché nessuno di noi è un supereroe che potrebbe fare l'offerta come vittima, per esempio, però bisogna su questo, un pochino nella preghiera personale ed eventualmente anche nel confronto, nel dialogo, per fare queste cose, cioè quando ci si addentra, come dire, verso le vette della santità o uno punta verso le vette della santità, è il caso, come dire, in quelle circostanze di trovare un buon padre spirituale che ci aiuti un po' a evitare, insomma, di fare anche in buona fede sciocchezze oppure imprudenze. Quindi, detto questo, però, non bisogna avere questi tipi di timore, perché la Divina Volontà non permetterà mai che accadano cose che possano nuocere a chi ci sta intorno, a meno che noi non siamo, insomma, come dire, squilibrati, scellerati o sprocedati, insomma, no? Quindi non è un buon pensiero questo qui in sé. La cosa che bisogna valutare è se la persona è abilitata, diciamo così, è in grado di poter formulare certi tipi di offerte impegnative. Questa è la cosa su cui bisogna, a mio avviso, fare maggiormente attenzione, non a timori che questo possa ricadere, insomma. La Tuzzaevo non è passata di tutti i colori nella sua vita. C'aveva il marito e cinque figli, insomma, quindi, eppure viveva la passione, cioè, da una famiglia che certamente viveva in una maniera un po' alternativa, quindi non è quello il problema principale. Il problema principale è vedere se un'anima può fare certi tipi di offerte. Ha un livello di maturazione spirituale tale da poter, se sente nel cuore, azzardarsi a fare certi tipi di offerte impegnative. Jobart 67 dice, buonasera, le rivelazioni private, se approvate, possono costituire un nuovo filo meteorologico. Si potrebbe eventualmente parlare di una nuova teologia sistemata di filo di una volontà. Allora, la rivelazione privata è e rimarrà sempre una rivelazione privata. Quindi la rivelazione privata, in quanto tale, come dire, questo l'ho detto tante volte, la rivelazione privata non dice, non aggiunge nulla di sostanziale alla rivelazione pubblica. Con la morte dell'ultimo apostolo ciò che Dio doveva dire pubblicamente lo ha detto. Quindi quello che ha detto pubblicamente è ciò che è essenziale e strettamente necessario alla nostra salvezza. Quindi quello che di per sé basta e avanza. Una rivelazione privata e in questo senso la divina volontà è evidentemente in questo filone. Cosa fa? Specifica, approfondisce un aspetto della rivelazione pubblica. Gli scritti di Di Luise, ciò che Gesù avrebbe rivelato, dico avrebbe per rispetto istituzionale, diciamo, nella forma ufficiale alla Chiesa che ancora sta curando il processo di beatificazione, quindi l'esame degli scritti di Luise. I punti approfonditi sono i seguenti. Primo, Gesù ha rivelato come Adamo viveva prima del peccato originale, cioè che in quella condizione che la Chiesa già conosce, perché come le condizioni dell'uomo prima della caduta sono state ampiamente approfondite dai teologi e oggetto essenziale di definizioni dogmatiche. La sta legge scritta di San Tommaso d'Aquino, quindi che ci fosse l'intima amicizia con Dio, la scienza infusa, l'immortalità, la pienezza di grazie, eccetera, sono cose che la Chiesa già sa. Non sa che, come dire, il fiore all'occhiello, il dono dei doni era vivere nella divina volontà, anche se sa già che evidentemente prima del peccato originale Adamo stava in obbedienza a Dio, è chiaro, perché il peccato originale è stata una disobbedienza. L'altra cosa fondamentale è che questa situazione, d'accordo, che è perduta dal peccato originale, è, come dire, in qualche modo ripristinabile, non esattamente da quello che si capisce proprio al 100% assoluto, perché per esempio la morte corporale rimarrà per tutti gli uomini, ma in larga parte. Quindi questo dono perduto è volontà di Dio ridarlo agli uomini. E questo, altro aspetto, è ciò che Gesù ci ha messo in bocca da duemila anni a questa parte, perché in due parole la divina volontà è venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così interno. Guardate, ieri mattina, ieri mattina, ho scritto, perché sto scrivendo una serie di articoli per il settimanale di Padre Pio, sulla preghiera, nel catechismo della Chiesa Cattolica. Sono ancora in pubblicazione, d'accordo, sul mio blog ho messo lo tanto il primo, perché aspetto evidentemente che prima li pubblichi il settimanale e poi li pubblico sul blog e poi, quando finirà il ciclo, diventeranno un e-book, come faccio generalmente. Allora, siamo arrivati alla seconda parte del catechismo, dove parla il catechismo commenta il Padre Nostro. Se andate a vedere, quando arriva la petizione, venga il tuo regno, il catechismo dice tante cose belle, d'accordo, ma circa questo regno di Dio, a che cosa faceva riferimento Gesù quando predicava il regno di Dio? Ma questo regno di Dio c'è o non c'è sulla terra? E quindi che cosa ci dice di chiedere Gesù? Il regno di Dio ha cominciato a scendere sulla terra con Gesù, questo è quello che insieme alla Chiesa. Il regno di Dio è iniziato nella Chiesa, la Chiesa è il principio di manifestazione di questo regno, ma è chiaro che il regno di Dio, allo stato attuale, non c'è sulla terra. Non è che ci vuole la scienza, non è che dice, che dici? Dove sta il regno di Dio, ragazzi? Ogni tanto, se c'è qualche santo, in qualche santo c'è qualche scintilla, diciamo così, c'è qualche manifestazione, ma non è che c'è il regno di Dio sulla terra. Quindi venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, ma che cosa significa? Come in cielo così in terra, perché quello è il punto fondamentale. Il fiat santificante, di cui si parla, di scritti questo termine tecnico, è il sicut in cielo e in terra. Cioè, non è semplicemente che qui, come hanno fatto tutti quanti i santi, ci rimbocchiamo le maniche, cerchiamo di capire quello che Dio vuole e lo facciamo, quanto meglio e quanto più possiamo. Questo va bene, ma si fa ancora oltre, oltre che a farlo come servo, lo vivo come figlio, lo vivo come amico e ci vivo in questo mondo. E imparo a riconoscerne gli atti, gli effetti, a beneficiarne, a farli miei e a farli diffondere, a farli effondere, con tutta quanta ragione e felicità che questo produce. Questo è qualcosa di più. Però capite? Cioè, questo non è un filone teologico. Allora, se da un lato io sono assolutamente evidente che quello che Gesù ha fatto con Luisa è una rivelazione privata. Punto. Cioè, ogni tanto, anche quando ho sentito qualcuno dire altro, cioè, come dire, è uguale a tante altre esperienze di santi. Ha un elemento distinto, però, che è una cosa abbastanza nuova, inedita, ma nel suo essere inedito, però, non è altro che uno sviluppo di dati che la Chiesa già conosce, che stanno già nella rivelazione. Per cui non si tratterà, a mio avviso, non c'è nessun nuovo filone teologico. Cioè, è semplicemente un dettaglio, un arricchimento di ciò che è già conosciuto dalla Chiesa. Quindi non c'è niente di cui... non ci sono filoni teologici nuovi, d'accordo? O il problema, dice, ma una rivelazione privata può diventare un filone teologico nuovo. Ma secondo me, no. Cioè, la particolarità di questi scritti, ecco, con questo Gesù arriva proprio al cuore dell'essenza stessa della vita, della ragione di essere della Chiesa, d'accordo? E promette, tra l'altro, l'avvento di questo regno, dice, quello che vi sto facendo chiedere da duemila anni, e che ancora stiamo chiedendo, e fino a quando non ci sarà il numero di padri... pensate, quanti padri nostri sono stati detti da quando stato insegnato da Gesù nel corso del Cielo? Quanti? Quanti miliardi di miliardi di padri nostri sono stati detti? Ancora non bastano, perché fino a quando non si arriverà il numero di padri nostri dichiesti, il regno della divina volontà sulla terra non ci viene. Capito? Questo lo dice Gesù negli scritti. E non solo il numero di padri nostri, ma anche il numero degli atti che si devono fare nella divina volontà da parte di chi già comincia a conoscere questo mondo, e quindi attraverso le sue azioni, attraverso i suoi atti, ne può accelerare la venuta. Questo è chiarissimo per quel poco che ho potuto capire, e ormai sono quasi arrivato alla fine della lettura degli scritti, quindi mi mancano tre volumi alla lettura parola per parole di ogni singola sillaba, quindi non credo che ci siano, diciamo così, delle aggiunte sostanziali. Ormai, come dire, il quadro mi si è fatto abbastanza chiaro, certamente, per quanto riesco a comprenderne. Scorro un pochino. Marina Neri, punto 50, scrive. Buonasera padre, c'è un fioretto perfetto nella divina volontà da fare la Madonna per tre volte al giorno. Non capisco quando dice che bisogna farlo facendo visita alla Madonna. Marina, io sinceramente non so di che cosa stia parlando. Non so se è qualche cosa che fa riferimento, perché in questo momento non lo ricordo, al testo La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà. Lì, per ogni meditazione, c'è un fioretto da fare nel corso della giornata. Se questo fioretto fosse di fare per tre volte una visita alla Madonna, una visita alla Madonna significa, non è che la Madonna la andiamo a trovare come se andiamo a casa dell'amico nostro, è come quando uno fa la visita al Santissimo Sacramento. La visita alla Madonna si fa, si va davanti a una statua o un'immagine della Madonna e si parla con lei, come quando facciamo la visita al Santissimo Sacramento. Si parla dicendogli quello che vogliamo, una preghiera, le si parla liberamente, la si loda, la si ama, questo poi ognuno sopra lo spirito tanto ci suggerisce. Più di questo non saprei che cosa dirle, se c'è qualche elemento specifico, qui sotto specifico fioretto perpetuo. Non so esattamente di cosa parla, mi dovrebbe citare la fonte, dove ha trovato questa cosa, perché eventualmente poi la vado a verificare e magari nella prossima puntata saprò essere più preciso. Buonasera, Leonardo. Come si fa a moltiplicare gli atti nella divina volontà e unire l'atto unico di Dio. Allora, mi raccomando, punto primo, queste nostre puntate non possono essere evidentemente pienamente suppletorie di argomenti che hanno bisogno, nel botta e risposta io mi posso prendere 3, 4, 5 minuti per rispondere a una domanda massimo, perché altrimenti diventa una catechesi. Quindi questa è una trasmissione interattiva, a differenza delle catechesi, come ho detto tante volte, e purtroppo continuano a farlo, non devono fare domande in diretta, perché non posso interagire con le domande se mi devo concentrare sull'argomento della catechesi. Quindi è chiaro che questa domanda è oggetto di approfondimento e da parte di diverse catechesi che ho fatto. Adesso al volo, se riesco davanti al computer, se riesco una attima ad aprire il file, intanto continuo a dire qualche cosa. Appena si entra nella divina volontà, entrare nella divina volontà è un termine tecnico, immediatamente noi abbiamo una moltiplicazione indefinita di tutto ciò che siamo e di ciò che facciamo all'infinito, perché la divina volontà sta dappertutto, in ogni confine del tempo, dello spazio e della storia. Quindi già entrarci, poi evidentemente quando si entra nella divina volontà si cominciano, per approfondire questo tema bisogna andare a approfondire tutta quanta la tematica dei giri nella divina volontà. Quindi cosa significa questo tipo di operazione? Quindi i giri nel fiat creante, i giri nel fiat redimenti, i giri nel fiat santificante, che sono quel nuovo modo di pregare che insegna come si fa a entrare in tutte le opere infinite della divina volontà e li moltiplicare i nostri atti di amore, di riparazione. Sto vedendo il mio ciclo di catechesi podcast, ce l'ho qui davanti nella pagina XML, per esempio andare a sentire la catechesi sui giri nel fiat creante è importante, così come la fusione con la divina volontà, così come i giri nel fiat redimente, così come i giri nel fiat santificante. Io sto anche, sono già disponibili, spero domani o dopodomani di riuscire a fare qualche altra cosa, proprio per aiutare le persone a comprendere un po' questo modo differente, nuovo di pregare e dal momento che quello che abbiamo a pubblica disposizione, almeno a mia conoscenza, però è possibile che in giro ci sia altra roba che io non conosca, abbiamo soltanto come esempio di giri nel fiat redimente ci sono le ore della passione, quindi sono i giri più belli, come esempi di giri nel fiat creante è la prima parte del pio pellegrinaggio dell'anima e nell'operato della divina volontà, sempre di Luisa. Ecco, già se uno va lì dentro capisce come moltiplicare gli atti nella divina volontà, che è un'operazione che si fa semplicemente portandoci lì dentro e poi cominciando a andare, questo è un mare magnum infinito, d'accordo? Io per esempio posso dire, ecco qui, questo è un bicchiere d'acqua che mi devo fare un sorso d'acqua, io adesso faccio un sorso d'acqua, no? Quanti miliardi di atomi di acqua ho ingerito? Infiniti. Come faccio a moltiplicare? Quando l'acqua che sto bevendo e accolgo il mio tiamo in tutte le cellule del mio corpo, il tuo tiamo, quindi immaginiamo quanti tiamo io ho preso e lo ricambio e ricambio il mio tiamo donando di tanti tiamo quanti miliardi di atomi ci sono in questo sorso d'acqua che ho bevuto, assicuro che sono veramente tanti miliardi di atomi che ci sono in un sorso d'acqua, è un attimo, cioè come dire, non vorrei usare espressioni insomma irriverenti, ma è un gioco da ragazzi, però non è un gioco, d'accordo? Perché è una realtà molto molto profonda, ci si deve piano piano abituare e familiarizzare, quindi non è tanto una domanda da botta e risposta, ecco perché ho dimandato, comunque chi vuole, i podcast stanno già sul mio sito web, su iTunes, credo che siano già stati approvati e quindi sono già disponibili e credo anche su Google Podcast, quindi va e sente, anche qui ne ho fatti un paio, nel fiat creante controllo un attimo il volo, ho fatto il giro nel sole e il giro nel cielo, quindi come si fa, diciamo così, ma questo non è una norma assoluta, perché quello è il mio giro nel sole, anzi è uno dei miei giri nel sole, se ne dovessi fare un altro domani sicuramente non lo farò uguale a quello che ho registrato, d'accordo? Perché qui in questo mondo è proprio il mondo della creatività per antonomasia, d'accordo? È l'espressività anche del nostro cuore, diciamo io ho fatto questa cosa per dare un input, ma non è che uno si deve imparare a memoria, il giro che ho fatto per rifarlo per sempre uguale, perché Dio vuole sentire tu come reagisci dinanzi al sole, dinanzi a quest'opera della sua volontà, tu come lo ami attraverso il ricambio d'amore, dell'amore che lui ti dà attraverso il sole, eccetera, eccetera, d'accordo? Spero di essere stato chiaro. Buonasera padre, la volontà del padre del figlio dello Spirito Santo sono distinte per noi assolutamente, la volontà del padre del figlio dello Spirito Santo è una sola, la divina volontà è una, una è la volontà del padre, una è la volontà del figlio, una è la volontà dello Spirito Santo, attenzione a non essere eretici, nella divina volontà non c'è il tre, è solo nella pluralità delle persone, diciamo pluralità a mezza bocca, ma l'unica cosa che distingue le tre persone della tantissima trinità sono le relazioni d'origine, basta, cioè l'onipotenza divina è una, l'intelletto divino è uno, la volontà divina è una, capito? Non ci sono tre volontà, una volontà del padre, una del figlio, una dello Spirito Santo. Quando Gesù nel Vangelo dice padre sia fatta la tua volontà, lì non parla come Dio, lì parla come uomo, perché Gesù ha una vera volontà umana e tutta la meritorietà degli atti che ha compiuto in quanto uomo dipendono dal fatto che quella volontà umana lui è tenuta sempre fissa nella divina volontà, evidentemente con un atto intenzionale e laborioso e meritorio, con la divina volontà che aveva anche in quanto Dio. Ma c'è il concilio di Costantinopoli 2 che ha sancito chiaramente che in Gesù c'erano due volontà e che la volontà umana ha dovuto per tutta la sua vita lavorare, come facciamo in un certo senso anche noi, anche se in un senso un pochettino analogo, ma noi non possiamo capire al 100% come era la psicologia dell'uomo Dio, però molestando che la volontà umana era distinta da quella divina e doveva uniformarsi ad essi, doveva lavorare per conformarsi ad essi, assolutamente. Ma dentro la statistica della divinità la volontà è una, quindi il Fiat è unico, d'accordo? Ecco. Allora, ancora Marina Neri. Padre, se ho capito che bene, con la divina volontà possiamo riscrivere il nostro libro della vita e riparare le nostre strafalzioni che abbiamo fatto nel nostro passato con la confessione. Allora, sì, allora, gli strafalzioni del nostro passato, anche qui bisogna capire bene, anche qui se uno torna al ciclo di catechesi che è disponibile anche su YouTube, il dono della divina volontà troverà a un certo punto la catechesi sul rifare gli atti nella divina volontà, che è una catechesi molto molto importante e che spiega bene questo punto. Ecco, ricostruire la vita nella divina volontà, c'è la prima, la seconda, la terza parte e poi c'è anche un pdf, questo è disponibile soltanto sul mio sito web chiaramente, che si chiama rifare gli atti nella divina volontà, che aiuta un pochino. Allora, e poi c'è tutta una serie, tre catechesi, quindi, no, due, su cosa non è la divina volontà, perché quindi vi assicuro insomma che quando feci questo ciclo di catechesi è stato come dire una composizione dove certamente io ci ho messo qualcosa del mio, ma quando l'ho vista poi alla fine non volevo fare una cosa di questo genere, volevo fare semplicemente qualche catechesuccia insomma così, ma non volevo fare una cosa di questo genere. Quindi ho avuto, lo dico ma ripeto, non per me, a gloria di Dio, anche qualche riscontro, diciamo così, molto positivo, anche, diciamo così, da qualche confratello che ci capisce molto più di me, insomma, su questo argomento, quindi per questo che mi permetto di consigliarlo. Allora, noi non è che possiamo aver fatto un macello della nostra vita e poi vai a passare tutto e dire, rifaccio tutto nella divina volontà? No, d'accordo? Se uno ha, come dire, un passato disordinato, la prima cosa da fare è ricevere la divina misericordia e mettere i nostri peccati nel sangue di Cristo perché siano distrutti. E questo si fa con la confessione fatta bene. Uno. La seconda cosa che non possiamo bypassare è la riparazione e la penitenza dei nostri peccati che bisogna fare personalmente, d'accordo? Mettendoci del nostro. Eh, d'accordo? Questo è il secondo passaggio. Il terzo ed ultimo passaggio, ma questo è il terzo ed ultimo passaggio, è la possibilità di rifare gli atti della nostra esistenza, cioè dove abbiamo fatto gli strafaccioni, chiedere a Gesù, dopo che lo strafaccione gliel'ho portato al suo sangue perché sia distrutto e per quanto sta in me ho cercato di ripararlo, bene, ti chiedo anche che in sostituzione di quell'atto valordo che ho fatto io, io possa prendere possesso di quello che tu, durante la tua vita terrena, hai già fatto per me, per quella circostanza ben precisa. Perché questa è un'altra cosa che Gesù ci rivela negli scritti, che tutta la sua vita terrena, specialmente durante la sua vita nascosta, ma non solo, ha rifatto tutti gli atti di tutti i membri del genere umano per ridare a Dio tutta quanta la gloria che noi gli diamo dal primo istante della nostra esistenza all'ultimo e questo per tutti i membri della razza umana. E tra l'altro la stessa cosa, Rivera Gesù ha fatto pure la Madonna, quindi ce ne abbiamo due da andare a riprendere. E tante volte l'ha fatto anche Luisa, quindi ce ne abbiamo pure tre, volendo. bene, come si fa nella Divina Volontà la preghiera ai Santi? È vero che si aumenta la loro credo occidentale e quindi non si chiede solo un'intercessione. Allora, un'altra cosa su cosa non è la Divina Volontà e lo si vedrà se uno ascolta queste catechesi. Un punto di cosa non è la Divina Volontà è questo, che non legittima nessuna presa di distanza dai mezzi di comunicazione comune. Quindi che cosa significa? Che non avvolge tutto quello che noi abbiamo dal deposito della fede, dalla tradizione della Chiesa, cioè la vita che io faccio, pur desiderando vivo e proprio a essere quello che non so ancora bravo, è esattamente quello che facevo prima di conoscere la Divina Volontà. Diciamo così da un punto di vista sostanziale. Il Rosario lo facevo prima, il Rosario lo faccio adesso, la Messa la celebravo prima, adesso le Novene le facevo prima, le Novene le faccio adesso. Se devo invocare un santo, come lo invocavo prima, lo invoca adesso, le litanie dei santi che stanno nel rituale, sono uguali a prima. Quindi se ho bisogno dell'intercessione di un santo, se devo fare una Novena a Santa Rita, faccio una Novena a Santa Rita. Se devo fare il responsore di Santa Rita, leggo il responsore di Santa Rita. D'accordo? Quindi non dobbiamo pensare a queste cose. Quello che negli scritti si legge è che dal momento che quando si opera e si fa un atto nella Divina Volontà, si dà a Dio una gloria infinita, si divinizza un atto, di questa glorificazione così grande di Dio, beneficiano anche i beati del cielo. E questo perché? Perché un atto nella Divina Volontà, come dire, attraversa i confini del tempo e della storia. Quindi anche se io lo faccio oggi, che è il 22 aprile del 2020, questo atto, entrando nell'eternità di Dio, partecipa della trastemporalità di un atto. E quindi può tranquillamente andare a beneficio e a ridondanza di gloria di una persona che sulla terra è campata mille anni fa. Non c'è nessun problema. Guardate, mi è arrivata proprio adesso, mentre c'è la trasmissione, si vedrà anche forse in sovrimpressione sulla registrazione video, che iTunes ha appena approvato il podcast dei giri nel Fiat Redimente, quindi che erano ancora in attesa di approvazione. Quindi ci sono tutti e due, sia quello nel Fiat Redimente, quindi non bisogna, chiaro Leonilde, pensare a cose, cioè questo è un pochino, a volte un po' un vezzo che si vede, che è una cosa un po' troppo caricata. La Divina Volontà poi non comporta tanti cambiamenti esteriori o cose strane. Per esempio, l'Ufficio Divino, io devo recitare la Liturgia delle Ore, sono un prete, se non fossi un prete la reciterei come atto libero, ma recito la stessa identica di Liturgia delle Ore che recitavo prima, tale e quale è identica, senza nessunissimo tipo di problema, zero. Quindi è chiaro che prima di recitare le nodi, dico che viene Divina Volontà nel mio sammodiare. Questo, diciamo così, può essere il surplus che c'è in questo mondo. Certamente poi, se si affina, diciamo così, l'anima e la sensibilità, quindi per chi comincia poi a familiarizzarsi con la Divina Volontà, quello che può cambiare è qualcosa da un punto di vista qualitativo, cioè se io interiorizzo nella Divina Volontà la grandezza, la maestà di Dio, il fatto che per esempio la liturgia delle Ore è una liturgica, quindi una preghiera importantissima dove non sto solo io a pregare, ma prego con tutta la Chiesa, eccetera, eccetera, un giovamento che si può ricavare, che si potrebbe ricavare diciamo così per accident, è che la recito molto meglio, con molta maggiore attenzione, con molta maggiore devozione, con molta maggiore dignità, con molta maggiore partecipazione nella misura in cui, stando vicino alla Divina Volontà, interiorizzo meglio il senso della grandezza di Dio, no? Come pregava i salmi Gesù? Come pregava i salmi la Madonna? Se una persona vive nella Divina Volontà è chiaro che presto o tardi qualche cosa qui dentro si deve smuovere, tenendo poi sempre presente che questo è un cammino graduale, non è che dall'oggi al domani, boom, parte molto tanto una serie di cose, no? Noi riceviamo questo torno nella nostra condizione limitata di poveri peccatori, se non nel senso stretto insomma di peccatori, insomma in atto, o di peccatori emeriti, cioè nel senso che lo siamo stati, o di peccatori in potenza che potenzialmente potrebbero comuniare ancora guai grossi, per grazie a Dio non li fanno, ma comunque sono pieni di difetti, di limiti e di imperfezioni contro cui dobbiamo quotidianamente combattere, no? Ecco, quindi questo, Roberto Giacomini, 1610, come capire nelle scelte che faccio la volontà di Dio? Allora, per fare la volontà di Dio, come dice Gesù, bisogna osservare i dieci comandamenti, questa è la prima cosa, bisogna osservare i doveri del proprio Stato, io sono un prete e non sono solo un prete, sono un parroco, d'accordo? Per cui, io stasera sto facendo una trasmissione su Instagram, noi faccio subito un esempio molto molto concreto, supponiamo che al 9 e un quarto mi avesse telefonato al 9 e 14 un parrocchiano dicendomi, c'ho bisogno padre dell'olio santo, qual è la volontà di Dio? Dice, la volontà di Dio è che lascio perdere la trasmissione di Instagram, se posso chiedo a un collaboratore di fare un posto dice, guarda, avverti, ma io devo andare a dare l'olio santo a un mio parrocchiano, perché io prima di essere prete, adesso sto facendo il prete, insomma, sto facendo un'attività apostolica rivolta a tutti, ma essendo parroco la mia prima attenzione deve essere parrocchiani, ok? Quindi se mi capita una cosa del genere io non posso stare con voi, dovrei dare prevalenza a quell'altra cosa, così come sapete quanta gente mi chiede in tutte le ranghe possibili a tutte, padre voglio che mi celebra un po' di messe a destra e a sinistra, io cerco e ti voglio che dico, fratello mio, figlio mio, figlia mia, io devo fare quello volentieri, ma io non posso, d'accordo? Cioè, né ti posso, mi celebra dieci messe, dico, ma dieci messe te lo posso fare? Bra, capito? Forse una, perché nella mia agenda io devo segnare le intenzioni di messe, dei miei parrocchiani, non posso posporli, d'accordo? Loro sanno per esempio che quando c'è qualche intenzione che metto io a penna, con la mia calligrafia, lui dico se qualche parrocchiano dovesse chiedere un'intenzione per quel giorno, me lo dici, se è una cosa che mi informi, perché se è una cosa che mi hanno chiesto senza data vincolata, la spostiamo, perché un parrocchiano deve andare prima, perché chiuso parroco, ok? Dopo che so parroco, so prete, dopo che so prete, so cristiano, quindi essere cristiano vuol dire seguire Gesù nel Vangelo, quindi vivere le virtù cristiane, quindi tendere alla virtù eroica, per esempio, adesso facciamo un altro po' di consigli per gli acquisti, di spot pubblicitari, ecco, la settimana scorsa ho scritto un articoletto, che vi consiglio direi che non è già fatto, sul turpiroquio, su come si parla, voglio capire come è la volontà di Dio, le parolacce non si dicono, mai, per nessun motivo, poi vogliamo fare un altro po' di esempi concreti, di quelli un pochino provocanti, il fumo, fumare è volontà di Dio sì o no? Cioè, già quando uno comincia, prova a chiederti direttamente, ma questa cosa sarà volontà di Dio oppure no? Perché già quando ci facciamo questa domanda diretta, già la coscienza comincia un attimino a... il fumo, può essere che Dio voglia che tu fumi, o forse lo tollera, ma sarà vero che poi lo tollera? Cioè, Dio può voler o tollerare un'azione da cui dipende un male oggettivo per il tuo corpo e per la tua salute, corpo è salute che... corpo che lui ha creato, è salute che lui ti ha donato, può essere che questo Dio lo voglia? Il problema è che molte volte noi, come dire, non discerniamo bene la volontà di Dio, qui permettetevi di parlare da prete e anche da cristiano, Sant'Agostino diceva per voi sono pastore, ma con voi sono cristiano, sapete qual è il problema? Che molte volte nella volontà di Dio non la vogliamo tanto capire. Tantemi assenti a me, perché sappiamo benissimo che se cominciassimo a aprire bene le orecchie, di qualche abitudine di vita dovrebbe cambiare. E siccome non abbiamo tanta voglia di cambiare certe abitudini di vita, per rispondere tra quelle più divertenti e quelle più gradevoli, ci nascondiamo dietro una voglia dicendo ma io non lo sapevo, io non ne sono sicuro, non lo so. Quindi già chiedersi e poi c'è un principio generale, tutto quello che porta all'amore, tutto quello che porta alla gioia, tutto quello che porta alla pace. Adesso nei prossimi giorni, forse già domani, scriverò un altro articolo, un'altra cosa che ho molto a cuore, circa lo stile che si deve avere, oserei dire uno stile cristiano ecclesiale. È possibile che si assista tra noi cristiani in continuazione a pubbliche esternazioni di critiche di Tizio, Caio e Sempronio, uno dice una cosa e su un blog, il giorno dopo su un altro blog gli risponde, attacca eccetera eccetera e fanno polemiche contese, ministri contro ministri, prete contro prete, vescovo contro cardinale, fedeli contro papi eccetera. Ma sono cose fatte bene queste? Punto intero. È volontà di Dio questa? È volontà di Dio questa qui? Criticare pubblicamente l'operato altrui. Siamo sicuri che è volontà di Dio? A me sembra che nella lettera di San Paolo c'è scritto fate tutto senza mormorazioni e senza critiche. Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche. Come già citato nell'articolo sul Turpiroquio, Gesù ha detto che di ogni parola vana, inutile o insulsa o non necessaria, la traduzione possono essere varia di quel termine greco, ne sarà chiesto conto ai figli dell'uomo nel giorno del giudizio. Quindi sarà bene criticare e commentare i fatti altrui o l'operato altrui, specialmente quando si tratta di operati. Voi sapete che per esempio, questo lo scriverò, quando nella Chiesa c'è qualche problema, addirittura quando qualcuno va sotto processo canonico, questo vale per un laico, per un prete o per un vescovo, sapete nella Chiesa come si fanno? Nella riservatezza assoluta, ma non perché uno vuole coprire le magagne altrui. No, no, ma per due motivi. Primo perché la dignità e il buon nome del peccatore vanno rispettati, anche se è peccatore. Certo, se a processo concluso ci saranno dei provvedimenti gravi da prendere, per esempio per un prete sospeso di Vinis, i più gravi, dimesso dallo Stato clericale, questi inevitabilmente diverranno pubblici. Ma fino a quando il processo non è finito, non sa niente nessuno. Non funziona come per le autorità civili, avete visto che appena uno c'è un'indagine, iscritto in un libro degli indagati, che non è niente, ha avviso di garanzia a tutti i giornali del mondo. Così quello è già diffamato, è già disonorato, tanto se poi lo assolveranno dal processo, sennò che gli daranno quattro trafiletti in quell'ottava pagina del giornale. Non è una cosa bella questa qui, d'accordo? Non si fa così, ma anche perché andare a rendere pubblica una malefatta di qualcuno, ma mi spiegate qual è il senso, qual effetto positivo ci avrebbe. Oltre che diffamare e mettere in mezzo a una pubblica agogna questa cosa, e magari se è una cosa andare a dire che è bello, hai visto anche qua, hai visto il governo, tutto uno schifo, hai visto nella Chiesa, è tutto uno schifo, perché se tu dai risonanza al male, l'effetto che produci è che poi si fa tutto nel buon fascio, eccetera, voi sapete tutte quante le pubblicità di fatti incresciosissime, io sono il primo a essere il più grande condannatore oggettivo dei fatti, quando Papa Francesco disse che per quanto gli riguarda neanche un caso di pedofilia avrebbe dovuto esserci nella Chiesa Cattolica, io lo sottoscrivo al 100% e se mi posso permettere lo dico da anni, sicuramente Papa Francesco è più grande di me, lo pensava da prima di me, quindi tolleranza no zero, sotto zero. Ma l'ecomediatico che è stata data da questa cosa, io vorrei vedere certi commenti che mi arrivano su YouTube, grazie a Dio sono moderati, d'accordo? Pedofilo, 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 e pedofilo, capite? E non solo a me, anche a tanti altri confratelli, anche in giro sui social. Perché? Perché se dai risonanza mediatica immensa a questi fatti incresciosi, l'effetto che si produce è, sono tutti pedofili. Quindi non è una cosa fatta bene. Nella Divina Volontà piano piano queste cose si raffinano, cioè la dignità di chi ci sta vicino, per esempio, è sacrosanta. Quindi il rispetto che noi dobbiamo avere è qualche cosa di semi-assoluto. Quindi capite quanto è distante lo stile da quello che noi vediamo tutti i giorni. È una vita divina, non è umana. Questa è proprio la quinta essenza, quindi ha voglia, quindi anche qui non è che c'è la ricetta magica per capire nelle scelte come si fa la volontà di Dio. È un complesso che va dal più generico, i dieci comandamenti, fino al più piccolo dettaglio, insomma, no? Paolo Papi, 163. Buonasera padre, volevo sapere che quando si fanno gli atti di riparazione e diciamo di fare una determinata azione, la si fa a livello animico, cioè lo dico e basta. Animico, sperando che non significhi niente, insomma, di misterioso, queste sono operazioni interiori. Anche qui Paolo Papi, da questa domanda capisco che deve fare ancora un pochino di formazione generale nella divina volontà. Tutti gli atti nella divina volontà sono tutti quanti atti interiori, d'accordo? E avete sentito la canzone del prodigio dei prodigi senza strepito e senza rumore. La Madonna, che è la principessa del regno della divina volontà, se uno la incontrava in giro, quando stava sulla terra, sembrava una donna come tutte le altre. Attenzione! Salvo che la sua, diciamo così, il suo portamento, il suo modo di essere, di fare, di parlare, di porsi, trasudava santità, d'accordo? Quindi la divina volontà non si manifesta in cose strane che facciamo, ma in una grande santità che proprio trasuda la persona. E quando questa non c'è, ragazzi, siamo ancora a acqua, eh? Quindi, ecco, come si fa a capire se stiamo già, se la fine è la divina volontà? Non si può capire. D'accordo? Quindi non, cioè, la Chiesa insegna, Concilio di Trento, nessuno si scandalizzi di questo qui, eh? Che noi non possiamo sapere con certezza nemmeno se stiamo in grazia di Dio. Figuriamoci se sto vivendo nella divina volontà. Lo possiamo presumere, deturre, con un sufficiente grado di sicurezza morale, da alcune spie, d'accordo? Ma la certezza non possiamo saperla. Anche qui di spie ce ne sono tantissime, e anche qui bisogna fare un pochino di formazione. La spia delle spie è evidentemente una delle cose più grandi che si possono vedere, è la grandissima pace, come dire, come disposizione stabile e permanente dell'animo. Perché dove c'è la divina volontà c'è la pace, c'è l'assenza di turbamento, c'è, come dire, una notevole diminuzione, per esempio, di atti disordinati, il vizio predominante, come dicevano i grandi santi. Sant'Ignazio diceva, fino a quando non vedi in qualcuno dei progressi nel vizio predominante, ancora c'è ben poca santità. Figuriamoci se c'è stata la divina volontà, no? Figuriamoci se una persona che sia iraconda, che a un certo punto comincia a darsi una bella calmata, è. Figuriamoci se una persona che sia superba, che sta sempre a parlare di se stesso, che sta sempre a mettersi in mostra, che sta sempre a denigrare il prossimo e la pianta, è. Figuriamoci se una persona che è stata sempre un pochino attaccatina ai soldi o cose di questo genere e comincia a essere veramente distaccata, ma no a chiacchiere, ma a fatti, anche se questa è una cosa che sta soltanto il diritto interessato, perché su questo argomento nessuno deve sapere nulla, che non sappia alla destra quello che fa alla sinistra, è. È un altro bello spia, insomma, no? Quindi le spie sono molteplici, anche qui andando a sentire catechesi e meditazioni, figliola cara, Paola, e avrà un modo certamente di cogliere tante altre spie che ci fanno capire, ecco, per esempio anche il grado della nostra preghiera, quanto la nostra preghiera migliora qualitativamente, quanto imparo ad entrare in coscienza e a mettermi davanti al Signore quando faccio una cosa, quanto faccio le cose, io questo lo so dentro di me, solo per Lui, per farmi vedere da Lui, per dare gloria a Lui, per fare piacere a Lui, sono tante piccole cose a cui bisogna imparare a rendersi attenti. Serri Liberty dice, buonasera, è necessario specificare un atto attuale, l'intenzione di prendere beni, benefici sospesi è sempre in atto. Allora, necessario, insomma, questo mondo, per quanto io l'ho potuto capire, tra l'altro la mediazione di questa mattina si intitola liberamente per amore. Gesù dice, io non voglio nessuna cosa fatta per forza, nessuna, deve essere tutto quanto libero, amorevole e anche possibilmente spontaneo, d'accordo? Quindi nel fare gli atti, nel fare gli atti attuali, faccio un atto attuale, faccio un atto di fusione, prendo un atto di Gesù, cioè sono, come dire, operazioni da compiere con una certa libertà e disinvoltura, quindi numero uno, non in maniera tale che venga a crearsi una sorta, come dire, di gabbio che una persona sta con l'ansia che deve fare forza queste cose qui, no? Non va bene, d'accordo? Ci si comincia a muovere liberamente, agevolmente, piano piano, no? Ecco, qui si vive in questo mondo, qui si ripercorre un pochino la vita umana, i bambini all'inizio, quando sono piccoli stanno un bacio proprio a mamma, dopodiché annaspano, dopodiché gattonano, dopodiché cominciano a camminare così, dopodiché camminano, dopodiché vanno da soli, quando diventeranno grandi, se vogliono pure a correre e diventano calciatori, no? Ecco, quindi si deve procedere a mio viso in questo modo, sapendo che il Signore ci guarda come bambini e come neonati nella divina volontà e quindi si fa un bel sorriso se noi non facciamo le cose magari fatte bene sotto questo punto di vista al suo cospetto, ma l'importante è che ci sia il cuore e l'intenzione, ovviamente anche che si faccia per quanto si è compreso quello che si deve fare, d'accordo? Perché è importante fare gli atti, gli atti attuali, gli atti di fusione, prendere tutto quello che Gesù ha fatto per noi, eccetera, no? Figlioli miei cari, quando si ha problemi di connessione, ho detto da tante volte che la connessione è un problema duplice, è un problema di fonte, è un problema di destinatario, qui a me non mi risultano cali di banda, insomma, e non vedo altre segnalazioni, quindi deve controllare la sua connessione, e se purtroppo non è eccellente, purtroppo questo può succedere. Ornella Caterina fa un'esclamazione, in nessuno troverai prodigi del mio volere, in effetti il rifacimento degli atti che meraviglia. Ecco, concordo. Bene. Mi ori a Melia, secondo lei con i segreti di meggio caro e di una volontà c'è attinenza? Ma questo non lo so e non lo posso insomma dire assolutamente, no? Questa è una domanda mi appare, però chiedo scusa se così non fosse, da un punto di vista oggettivo, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha posto, un po' come una domanda, un po' di curiosità. Le domande un po' di curiosità è sempre bene un pochino evitarle, no? Quindi poi anche come dire, l'attenzione un pochino morbosa a questi eventi futuri, presumibilmente non molto gradevoli. Ecco, io credo che nella divina volontà, se uno vuole in qualche modo legarli, li sirvano con molta molta serenità, così come la situazione attuale, la crisi pandemica attuale. È chiaro che da un punto di vista umano, da agitarsi, da sconvolgersi, da preoccuparsi, da disperarsi in certi casi, no? Tutto quanto umanamente comprensibile. Da un punto di vista soprannaturale, no. C'è un modo differente di vivere questa cosa. Quindi anche quando ci sono esperienze forti o, diciamo così, oggettivamente negative, nel senso che arrecano delle sofferenze, dei mari come quelle attuali, i cristiani figli di Dio sanno bene che questi eventi sono da Dio o voluti o permessi. Non è tanto importante capire se sono voluti o permessi, questo è accidentale, ma evidentemente in vista del bene, certamente in vista del bene. E che ieri come oggi è vero che non si muove la foglia che Dio non voglia. E quindi, siccome tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, altro consiglio per gli acquisti è un altro degli articoli di attualità che ho scritto recentemente al riguardo sul mio blog, c'è sempre speranza, che è anche una lettura un pochino di fede e, se vogliamo, soprannaturale proprio della situazione difficile che stiamo vivendo attualmente. È chiaro che umanamente parlano dal punto di vista di volontà umana. Uno può andare a preoccuparsi, a disperarsi, a agitarsi, a piarsela col governo, a piarsela con la Cina, a piarsela con l'Europa, cioè mettiamo tutto quello che sentiamo in giro la mattina alla sera. Va bene, d'accordo. Dentro la volontà umana questa cosa è tutto ok, ma dentro un desiderio di vivere questa cosa nella volontà divina, eh no. I parametri sono completamente differenti. D'accordo? Serri Liberty. Luisa è riuscito a raggiungere lo stato della piena volontà iscritto da Gesù o l'ho raggiunto alla fine del momento della morte? Ma io questa non è una domanda a cui so rispondere al 100%, perché conosco a grandi linee evidentemente la biografia e la vita terrena di Luisa, credo che lei abbia, certamente da quello che Gesù dice, cioè Gesù la scelta perché lei vivesse come prima tra le creature nella divina volontà, come pioniera, diciamo così, come prima figlia di Adamo segnata dal peccato originale a rivivere questo dono. Questo è sicuro, questo lo dice Gesù, quindi se Gesù lo dice così è stato. Quando questo sia successo con perfezione, io non so rispondere a questa domanda, bisognerebbe parlare con qualche biologo, non biologo, biografo esperto, qualora questa notizia si sappia con precisione. D'accordo? Ma che lei abbia vissuto veramente nella divina volontà non c'è assolutamente dubbio in base a quello che si legge negli scritti. Pierluigi del Frate, la spiritualità divisa per Carreta, si inserisce nella pratica spiritualità domenicana? Assolutamente no, ma non si può affermare questo, né come dire a mio avviso caratterizzare la divina volontà come una spiritualità. Non è a mio avviso corretta questa identificazione, perché la divina volontà è la vita stessa di Dio, è la vita stessa della Chiesa, per cui è vita che abbraccia trasversalmente tutti gli stati, le condizioni, le vite e le forme di vita, la spiritualità della Chiesa stessa. Non è una cosa tra le tante, d'accordo? Non è una cosa che si aggiunge alle altre. Ecco. Mi ori a me, se non ci fosse stata Luisa non si saprebbe nulla della divina volontà? Non possiamo rispondere a questa domanda con certezza. Possiamo dire che a quello che ci risulta Luisa è stato il tramite scelto da Gesù per parlarcele. Poi, in sé, d'accordo? Non possiamo certamente renderne conto, no? Devo salutare perché ecco, ci mancano 26 secondi e siccome arrivati a 10 ci interrompe la voce, preferisco salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana. Chi può, gli consiglio di dare un'occhiata venerdì alla puntata sempre su Instagram con Deborah e il suo ospite che credo sarà frappio. La mia benedizione, Ave Maria.